Salve a tutti amici e benvenuti al video di oggi. Eccoci qui a parlare dell'attesissimo Mulan della regista Niki Caro, ennesimo live action Disney rifacimento del film omonimo del 1998. Come sappiamo la Disney si è imbarcata ormai da anni in questa operazione per certi versi discutibile di rifare con attori in carne e ossa praticamente tutti i classici dell'animazione per cui è diventata famosa. Ne abbiamo visti tanti e adesso ho toccato anche a Mulan che io devo dire aspettavo con grande curiosità e grande impazienza perché Mulan è sempre stata una delle mie eroine Disney preferite in assoluto. Il film mi è piaciuto? Più no che sì, devo ammettere. In un primo momento, devo dire la verità, non mi stava dispiacendo però più si andava avanti più vedevo cose che mi facevano storcere il naso. Ma andiamo con ordine. Il film è uscito possiamo dire il 4 settembre data dalla quale lo troviamo al modico prezzo di un rene su Disney Plus con accesso VIP perché poi invece dal 4 dicembre sarà disponibile sempre su Disney Plus ma per tutti gli abbonati. Nel caso dell'Italia il prezzo è di 21,99 euro. Come sappiamo il film ha avuto una storia molto travagliata perché doveva uscire nel marzo del 2020 col senno di poi un'ottima decisione, un'ottima data per far uscire un film. Dopodiché il mondo è finito sotto sopra a causa del carissimo amico coronavirus e quindi il film ha cominciato a essere rimandato più volte fino a quando Disney ha preso la decisione di mandarlo direttamente su Disney Plus. Quindi per il momento il film non andrà nelle sale cinematografiche tranne che in quei paesi che non hanno appunto il servizio Disney Plus disponibile. Se non ho capito male in America a un certo punto andrà anche al cinema. In Italia invece ancora non si è parlato di questa cosa. Probabilmente lo troveremo soltanto su Disney Plus. Il che è obiettivamente un peccato e vedremo anche perché. Soprattutto perché in Italia obiettivamente i cinema in questo momento sono aperti. Non dimentichiamo che After 2 in questo momento sta incassando tantissimo quindi a un certo punto è un peccato che un film come Mulan non sia andato al cinema. Nonostante la mia opinione non proprio positiva sul film sicuramente è meglio di After 2. Non c'è neanche da discuterne. Se è stata una buona decisione o meno si deciderà alla fine a seconda degli incassi. Per noi spettatori invece ne vale la pena? Beh se consideriamo, lo dicono un po' tutti, quanto spende una famiglia per andare al cinema fra una famiglia media magari di quattro persone quindi fra il costo della benzina, quello dei biglietti, i popcorn per tutti, il bibit e quant'altro allora effettivamente magari ne vale la pena. Se poi lo vedi con altre persone dividete il prezzo insomma fra più persone, ancora di più si va effettivamente a risparmiare però alcuni altri dicono e sono d'accordo quando io pago il biglietto del cinema, pago appunto l'esperienza della sala che comprende la visione sul grande schermo e tutto obiettivamente il contorno anche sociale con tanto di condivisione dell'esperienza con altre persone, popcorn e quant'altro anche il semplice fatto di uscire di casa per andare al cinema fa parte dell'esperienza tutto questo ovviamente qui viene a mancare. Fra l'altro Mulan è un film obiettivamente spettacolare che visto sullo schermo, sul grande schermo ci avrebbe guadagnato mentre invece sul televisore di casa perde veramente tanto. Fin da quando la Disney annunciò il live action di Mulan si capì subito qual era l'umore del pubblico, ci fu anche una petizione al riguardo, niente whitewashing. In pratica il pubblico chiedeva un cast interamente cinese o comunque di attori di origine cinese e la Disney in questo diciamo li ha accontentati. Dopo un casting molto complicato dove vennero visionate più di mille candidate, alla fine si scelse Liu Yifei. Devo dire che la scelta è stata azzeccata, mi è piaciuta ma questo lo vedremo tra poco. Il cast è abbastanza folto, abbiamo dei nomi anche conosciuti, abbiamo per esempio Gong Li nella parte della strega, e poi abbiamo nella parte del cattivissimo Bori Khan, Gesù Scott Li, che lo ricordiamo nella parte di Bruce Lee in Dragon, i Rapanui, i Mowgli, poi Donnie Yen, noto per la serie Hitman nella parte del comandante Tung, e per il ruolo dell'imperatore mi sono andati a scomodare perfino Jet Li di Hero, se non avete mai visto questo film andate a vederlo, e infine Zima nella parte del padre. Quindi un cast obiettivamente molto ricco, anche con nomi abbastanza famosi, sia per il pubblico cinese che internazionale. Allora, che cosa mi è piaciuto? Intanto la protagonista mi è piaciuta molto, carismatica, affascinante, e trovo che si sia calata bene nel personaggio, se parliamo appunto della Mulan filmica, del tipo di caratterizzazione che hanno voluto darle in questa storia, diversa da quella del cartone animato. Mi è piaciuto da un punto di vista visivo, quindi costumi, scenografie, molto vivaci, molto belli, paesaggi, tutto questo non mi è dispiaciuto affatto, poi anche i combattimenti e le sequenze di azione. Ne avevo sentito parlare abbastanza male, invece devo dire che non sono rimasta delusa da questo aspetto. Non ho capito solo il senso di alcune scelte registiche, come alcune sfocature, secondo me un po' buttate lì a caso, di cui non ho capito bene il senso, ma vabbè. Diciamo che da un punto di vista, ecco, complessivamente visivo, il film è bello, merita, però perde. Visto a casa propria, a meno che appunto non si abbia un televisore super megagalattico, ci perde veramente, veramente tanto. Diciamo che da questo punto di vista mi è dispiaciuto non poterlo vedere al cinema. Poi mi è piaciuto il rapporto e il parallelismo fra Mulan e la strega, di questo però parleremo un attimino meglio nella parte spoiler. Poi mi sono piaciute le interpretazioni di alcuni dei comprimari, soprattutto il padre di Mulan, il comandante, l'imperatore, belli, anche visivamente affascinanti anche loro. Diciamo che il film, pur arrivando quasi alle due ore, scivola via abbastanza velocemente, perfino troppo, la parte finale secondo me è molto troppo veloce, la risoluzione di tutta la situazione veramente ti piomba addosso quasi da un momento all'altro, però il film sicuramente ha il pregio di non annoiare, si lascia guardare e sicuramente è un film genericamente gradevole. Qual è il problema? Il problema è che veramente poteva essere molto, molto, molto di più. Ci è mancato davvero poco affinché fosse qualcosa di veramente memorabile e una cosa che veramente non gli perdono, che non mi è piaciuta, è stato il suo carattere ibrido e la sua superficialità. Che cosa voglio dire? Fin da quando sono saltati fuori i primi trailer, si è capito tantissimo che Mulan avrebbe strizzato parecchio l'occhio al genere Vuxia. Vuxia è la pronuncia italianizzata, quella cinese non ci provo neanche. Che cos'è il genere Vuxia? È quel genere letterario ma anche filmico, conosciuto soprattutto da un punto di vista cinematografico, che narra le storie di eroi marziali della tradizione cinese. Quindi sono film ad ambientazione storica dove le arti marziali hanno un ruolo fondamentale e si caratterizzano soprattutto per questi duelli inverosimili, impossibili, in cui i protagonisti compiono queste incredibili acrobazie, saltano, volano praticamente. E quindi questa è una delle caratteristiche peculiari del Vuxia, quella che la rende subito riconoscibile. Uno dei registi più rappresentativi del genere, per esempio, è San Yimou. Pensiamo a film come La tigre e il dragone, La foresta dei pugnali volanti, Hero, Seven Swords, questa roba qui, insomma. E quando abbiamo visto Mulan volteggiare per aria come non Vuxia, si è capito che cosa si stava cercando di fare. Poi sono arrivate le dichiarazioni della regista che ci ha fatto sapere che non ci sarebbero state le canzoni, ma soltanto i temi musicali del film originario appena accennati in sottofondo, e non ci sarebbero stati personaggi come Mushu o Cricri. E questa cosa personalmente non mi ha scandalizzato, anzi mi ha fatto piacere perché l'ho trovata in linea con quello che cominciavamo a vedere. Cioè se tu mi vuoi fare diventare Mulan, una specie di Vuxia, ok, va bene che tu elimini personaggi più cartuneschi, perché Vuxia è inverosimile da quello che abbiamo appena visto, ma lo è in una maniera molto peculiare, e ha questo carattere molto epico, molto drammatico, per cui personaggi come il draghetto o il grillo sarebbero stati molto fuori luogo. E a me non dispiaceva, perché i live action Disney oscillano un attimino fra queste due tendenze, quella a rifare inquadratura per inquadratura il film d'animazione originario, un caso limite è quello del Re Leone, e a questo punto veramente non si capisce il senso di un'operazione simile, e quella invece di aggiungere cose nuove al film originario, di cercare di staccarsene. Ecco, l'idea di un film completamente diverso, completamente distaccato dal cartone, che magari si avvicinasse alla leggenda originale di Hua Mulan, non dimentichiamo che per l'occasione la famiglia della protagonista riacquista il suo nome originario, che è appunto Hua, no, Fa, a me non dispiaceva, la trovavo interessante, ero molto curiosa di vederlo, il problema è che ovviamente non si è potuto e non si è voluto andare fino in fondo in questa direzione. E qual è il risultato? Il risultato è che Mulan non è né carne né pesce, è un ibrido, non riesce a raggiungere ovviamente, ma neanche lontanamente, l'epicità e la drammaticità dei veri Vuxia, però perde tutta la freschezza del cartone animato e la vivacità del cartone animato. Per esempio, i momenti divertenti o leggeri spariscono, non ci sono più, le poche scene che dovrebbero far ridere, come quella della mezzana, o i siparietti con i commilitoni, non fanno ridere neanche un poco, è un film molto serioso. E quindi a questo punto, forse sarebbe stato bene, veramente, di staccarsi full serio dal cartone animato, andare completamente nell'altra direzione, cioè quello che voglio dire è un po' di coerenza. Io avrei amato, per esempio, una cosa impossibile, impensabile, cioè a questo punto, il cartone animato fare come se non esistesse, fare un vero e proprio Vuxia, quindi rendere la storia molto più epica, molto più drammatica, e magari affidarne la regia a un regista esperto del genere. Immaginate per un attimo Mulan diretto da Zanghimu. ne sarebbe venuto fuori una roba magnifica, un capolavoro. Ovviamente la Disney non poteva farlo, perché avrebbe significato allontanarsi troppo dal suo target, che comunque sono i bambini, sono le famiglie, e perdere ovviamente il legame col film d'animazione, che è quello che ti fa incassare molto al botteghino. Quindi da un punto di vista artistico sarebbe stata una bellissima idea, da un punto di vista pratico non si poteva fare, ok, però almeno distaccati il più possibile dal cartone animato. Perché farlo soltanto in parte? Perché farlo soltanto a metà? E trascinarti dietro dal cartone come dire, delle zavorre che non solo ti appesantiscono la storia, ma te la rendono molto forzata, molto inverosimile. Per esempio, vengono inseriti dei personaggi che dovrebbero essere i sostituti di quelli del cartone animato. Ora, perché fare una cosa simile? Capisco che tu mi elimini Mushu e Krikri perché in un Vuxia non c'entra un fico secco, ok, però me li vai a sostituire. Cioè, non ci rinunci completamente. Al posto di Mushu abbiamo questa fenice totalmente inutile che non fa praticamente niente se non arrivare ogni tanto e svolazzare qui e lì. Fra l'altro, visivamente, mi sembrava molto simile un'aquilone ogni volta che la vedevo non pensavo guarda la fenice pensavo guarda l'aquilone in una CGI molto discutibile, molto barbina direbbe il trono del mori. Quindi me la piazzi lì così a caso. Ancora di più non mi metti Krikri però mi metti questo combinditore di Mulan chiamato Grillo. Anche questo è un personaggio totalmente inutile che in un paio di scene dovrebbe stemperare la tensione ma veramente si vede pochissimo però me lo metti lì come contentino per i fan non capisco non comprendo questo inserimento di personaggi forzati per mantenere questo legame col cartone animato da cui tu stesso asserisci di volerti distaccare. Al tempo stesso mi metti queste musiche di sottofondo quindi non mi metti le canzoni però mi fai sentire in sottofondo farò di te un uomo o riflesso in momenti diciamo nei momenti più adatti del film più o meno sì ma che senso ha questa cosa perché tu mi stai raccontando un'altra storia una storia molto diversa come vedremo fra poco. Un altro degli inserimenti assurdi è sostituire il personaggio di Li Shang con quello di questo compagno d'armi di Mulan un suo parigrado perché regista e sceleggiatori hanno come dire si sono convinti del fatto che fosse sconveniente fare provare a Mulan un'attrazione per un suo superiore avrebbe dato origine secondo loro a delle scene imbarazzanti e quindi l'interesse amoroso di Mulan diventa questo altro soldato questo suo parigrado in cui fra l'altro fatichiamo perfino a capire il nome io in tutto il film non sono riuscita ad afferrarlo e ogni tanto infatti lo guardavo e gli dicevo scusa ma tu come ti chiami ce lo fai sapere visto che sei un personaggio così leggermente importante e niente sta lì fa esattamente la parte di Li Shang però senza avere ovviamente il suo carisma visto che non è più il comandante dello squadrone va bene quindi come abbiamo detto abbiamo questa situazione assurda in cui da un lato vogliamo fare qualcosa di diverso dal film d'animazione ci vogliamo ispirare alla leggenda ci vogliamo ispirare al cinema Vuxia vogliamo fare qualcosa di più epico quindi rinunciamo ai personaggi cartuneschi dall'altro però il legame col cartone animato ci deve essere e quindi inseriamo tutte queste cose forzatissime il problema fondamentale è che però loro addirittura cambiano la prospettiva da cui ci viene raccontata la storia ci raccontano effettivamente un'altra cosa ci danno un altro messaggio il cardine stesso della trama è completamente diverso allora perché quale storia ci raccontava Mulan cartone animato il confronto in questo caso io avrei voluto giudicare questo film come un film a sé stante mi avrebbe fatto davvero tanto piacere ma sono loro stessi che con le loro scelte ci costringono a fare il confronto fra le due pellicole e quindi beccatevi il confronto cosa ci raccontava Mulan Mulan ci raccontava la storia di questa ragazza goffa e imbranata che nonostante tutti i suoi sforzi proprio non riusciva a soddisfare le aspettative della famiglia e della società nel ruolo che avevano cercato di imporle era veramente un disastro come sappiamo poi per salvare il padre si traveste da uomo e parte in guerra e inaspettatamente è proprio nella vita militare che Mulan trova il suo posto grazie al faticosissimo addestramento e alla sua forza di volontà ovviamente diventa una fantastica combattente la migliore di tutti però riesce anche soprattutto finalmente a usare delle doti che lei già possedeva ma che non riusciva ovviamente a mettere a frutto nella sua vecchia vita finalmente può fare vedere quanto lei sia intelligente ingegnosa e intrepida soprattutto intelligente ingegnosa è proprio questo che la fa balzare davanti a tutti che la fa essere migliore dei suoi commilitoni perché ha delle doti che loro non hanno e grazie al suo impegno e alla sua forza di volontà riesce a farle venire a galla e quindi trova finalmente il suo posto nel mondo il riflesso che vede nello specchio finalmente alla fine le somiglia e quello che le davvero voleva essere e io da ragazzina la trovavo un esempio splendido in giovane età io ho praticato con risultati abbastanza discutibili le arti marziali e mi ricordo che Mulan era l'eroina indiscussa mia e delle mie compagnette di palestra ciao Marilena ciao Nicoletta perché noi vedevamo in lei un modello lei tutto sommato era come noi e quindi noi speravamo di poter diventare come lei e quindi nonostante la fatica il disagio gli allenamenti noi ci sforzavamo di andare avanti seguendo fra l'altro il suo esempio oltre che i dettami del nostro maestro che pur essendo di origini occidentali nella sua filosofia immaginatevelo un po' come un maestro alla karate kid era uno di quelli che ti diceva ti sei rotto una gamba c'hai l'altra devo dire che è stata una grande scuola di vita per imparare ad andare avanti nonostante le difficoltà ed è lo stesso messaggio che ci lasciava Mulan il cartone animato ed era un messaggio bellissimo molto profondo e molto significativo e invece questo non potrà mai accadere alle ragazzine del 2020 che vedranno Mulan perché Mulan è speciale non perché dia tutta se stessa nell'allenamento e perché sia intelligente e capace Mulan è speciale perché ha il dono il dono in questo caso è la capacità di connettersi al proprio C perché in questa versione hanno dovuto scomodare il C il C nella così filosofia orientale è quella sorta di energia che permia un po' tutte le creature viventi nell'universo narrativo di questo film Mulan nel 2020 e le persone che hanno la capacità di connettersi più degli altri al proprio C ed è una specie di dono con cui nasci non è qualcosa che vai acquisendo col tempo quindi le persone in grado di fare questo possono compiere delle imprese mirabolanti delle vere e proprie magie se riescono a sviluppare il loro potere abbastanza a lungo e questo li rende ovviamente speciali solo che scopriamo ci viene detto fin da subito questa capacità di connettersi così tanto al proprio C e di sfruttarlo viene considerata una prerogativa del tutto maschile per cui se una donna è in grado di farlo viene considerata una strega e estromessa dalla società va bene noterete che il C inteso in questo senso è tanto simile alla forza dell'universo di Star Wars all'inizio quando il padre di Mulan che fa da voce narrante parla di Mulan e delle sue caratteristiche poco c'è mancato che dicesse il C scorre potente in questa donna ma il senso comunque era quello quindi io non ho potuto fare a meno di pensare ma tu guarda hanno fatto Star Wars in salsa cinese e questo ancora di più si vede in un altro particolare di cui parleremo nella parte spoiler quindi addio alla Mulan ragazza qualunque che potrebbe essere obiettivamente ammirata ed emulata da una ragazzina qualsiasi perché se tu non c'hai il dono non puoi essere Mulan ovviamente e quindi qua viene a cadere tutto quello che per noi aveva rappresentato il maggiore fascino di questo personaggio quando eravamo ragazzine oltre ovviamente non dimentichiamola di aver quindi cambiato il messaggio del film perché a questo punto non è più un trovare la propria strada ma è un riscoprirne una vecchia perché Mulan quando era ragazzina era stata costretta dal padre a nascondere a reprimere questa sua capacità proprio perché lui era preoccupato per lei e per il suo futuro e però la vita nell'esercito la convince in qualche maniera ma soprattutto un'altra situazione la convince a farla tornare a galla quindi appunto non è un trovare la propria via ma un riscoprirne una vecchia accettarsi per quello che si è imparare a non nascondersi e a non avere paura di se stessi e qui insomma Elsa di Frozen ci ha detto praticamente le stesse cose va bene mi hai raccontato un'altra storia obiettivamente più superficiale e banale di quella del cartone animato però appunto mi stai raccontando un'altra storia e se lo facessi fino in fondo mi starebbe anche bene il problema come dicevamo prima è che non lo fa fino in fondo cerca continuamente questo legame con il cartone lo fa nell'inserimento di tutti quei personaggi di cui abbiamo parlato prima di cui non si sentiva assolutamente il bisogno e lo fa in una serie di situazioni che però ci fanno arrivare alla parte spoiler quindi io saluto tutti quelli che non hanno visto ancora il film e vi invito a tornare dopo la visione del film o se non avete paura di spoiler non avete inserizione di vedere il film uno di questi motivi volete restare restate pure allora pronti con la parte spoiler ecco una delle cose che dimostra quanto sia pericoloso questo pescare a casaccio elementi dal film originario e piazzarli lì proprio perché vuoi mantenere a tutti i costi questo legame altrimenti la tua operazione commerciale fallisce e non ha più senso almeno è questo di cui è paura lo vediamo per esempio nel momento in cui Mulan viene scoperta perché quando i combinitoni di Mulan scoprono la verità sul suo conto ovviamente si comportano come nel cartone animato e il problema più grande sembra essere proprio il fatto che la ragazza abbia nascosto la sua identità che abbia mentito e che quindi non sia stata sincera che è una delle qualità che un vero guerriero deve avere ok e tutto il problema tutta la questione dell'uso del C dell'uso improprio del C in quanto lei è una donna e non dovrebbe usarlo che fine fa sparisce è una cosa che hanno introdotto loro perché all'improvviso non è più quello il problema obiettivamente non possiamo fare a meno di stupirci insieme alla strega quando lei con molta amarezza dice accettano te ma non accettano me perché? perché Mulan sta usando le sue capacità per fare del bene ma anche la strega probabilmente l'aveva fatto prima di votarsi al lato oscuro della forza perché di questo si tratta non si capisce anche quando invece gli stessi commilitoni di Mulan cambiano idea e l'accettano per quella che è e poi anche l'imperatore e tutto il popolo cinese il tutto avviene più o meno come nel cartone solo che qui nell'universo narrativo che è creato per il film questa cosa non ha senso perché nel cartone che succedeva perché Mulan dimostrava con i fatti di essere il guerriero più abile migliore e più coraggioso di tutti nonostante fosse una donna dopo averle visto letteralmente sotto i loro occhi compiere le sue grandi imprese gli altri militari l'imperatore e il popolo tutto non potrebbero più nei fatti dire che una donna non vale niente se non nel ruolo di moglie e di madre perché Mulan proprio ha sbattuto a tutti loro in faccia la verità cioè che non è così è la scorrettezza e la falsità di questi pregiudizi e di questa idea è così che lei abbatte tutte le barriere e i pregiudizi e la cosa ha perfettamente senso ma nell'universo narrativo di Mulan il film in realtà i suoi poteri dovrebbero continuare a spaventare tutti quanti il fatto che lei li usi a fin di bene non dovrebbe essere una ragione sufficiente per far sì che tutti all'improvviso credano in lei e cominciano a trattarla come quell'eroina che in effetti è perché il problema e ripeto ce lo dicono loro ce lo fanno capire fin dall'inizio la cosa che fa paura è l'idea di questo grande potere nelle mani di una donna e sembra essere un retaggio culturale molto forte quindi in teoria le azioni di Mulan per quanto coraggiose non dovrebbero essere sufficienti così da un momento all'altro a fare crollare tutta questa situazione a fare cambiare idea a tutti perché dovrebbe essere una paura troppo forte dovrebbero continuare a considerarla una strega e a temerla nonostante tutto come hanno fatto con la strega vera e propria quindi non si capisce hanno voluto mantenere lo sviluppo della storia simile a quella del cartone animato ma in questo caso la cosa non ha senso non ce l'ha l'unico problema appunto è che Mulan ha mentito risolto quello perdonata per quello puff tutto a posto e lei non fa più paura a nessuno ripeto in un contesto culturale simile ditemi voi che senso ha una cosa del genere sarebbe come se in un universo in cui si temono le streghe arriva una strega che salva tutti e all'improvviso la stregoneria non fa più paura farebbe paura comunque magari elogerebbero comunque la strega le farebbero tanti complimenti per quello che ha fatto ma la paura e i pregiudizi verso di lei non cadrebbero così di botto sarebbe assurdo se accadesse una cosa del genere un'altra cosa che mi è piaciuta del film accennavo prima è il rapporto fra la strega e Mulan e il parallelismo fra di loro però anche questo è trattato obiettivamente con una certa superficialità e il tutto un po' si riduce quasi si riduce a uno scontro fra lato chiare e lato oscuro della forza anche in questo caso chi usa il C può scegliere di usarlo per il bene o per il male e deve decidere un po' da che parte stare la strega decide per il male Mulan decide per il bene e la strega da brava Anakin Skywalker in qualche maniera si riconosce questa ragazza più giovane e inizialmente tenta di portarla dal suo lato dal lato oscuro e poi alla fine decide di salvarla e si sacrifica al posto suo sempre da brava surrogato di Anakin Skywalker vorrei ricordare a sceneggiatori e regista che tutto questo ci è stato già raccontato però hanno voluto raccontarcelo ancora una volta va bene sono scelte però anche qui ovviamente il tutto viene affrontato molto velocemente ecco parlavamo del fatto che il film passa via davvero come nulla quasi non te ne accorgi e ti ritrovi alla fine e lo scontro finale col cattivone della situazione con questo Bory Khan anche quello viene risolto in due secondi e finisce tutto a tarallucci e vino anche nel film d'animazione lo scontro con Shai Yu non durava moltissimo obiettivamente ma lì c'era lo sviluppo narrativo che rendeva il tutto naturale e quindi andava bene così qui obiettivamente si sente la mancanza di una situazione risolutiva più forte più di peso e soprattutto verso la parte finale scopriamo che il film ha un enorme buco di trama un grosso problema narrativo che inficia la correnza del tutto e ancora una volta non possiamo fare a meno di fare il paragone col cartone c'è poco da fare ci costringono loro a farlo perché qual è la situazione del cartone Shang Yu vede nella costruzione della muraglia cinese una sfida alla sua potenza e decide a sua volta di sfidare l'imperatore quindi arriva in Cina fa sapere che lui è lì e sfida l'imperatore appunto a mandare incontro il suo esercito più potente proprio per dimostrare la sua forza per dimostrare che lui quell'esercito lo sbaraglierà battaglione dopo battaglione per arrivare infine alla città imperiale invadala e uccidere l'imperatore quindi è una vera e propria dimostrazione di forza e quello è il suo obiettivo ok e fila tutto liscio come l'olio invece in questo film nel tentativo di dare al cattivo una motivazione più profonda perché ormai se non si fa questa cosa non si può campare fanno sì che si trattasse di una questione di vendetta personale perché l'imperatore aveva ucciso il padre di Boricane e quindi Boricane oltre a conquistare la Cina vuole anche uccidere l'imperatore il suo obiettivo primario è quello non dimentichiamolo e alla fine scopriamo e Mulanna scopriva l'inganno che l'invasione della via della Seta quindi a nord della Cina era soltanto un diversivo per attirare lì l'esercito un esercito che ricordiamo era stato mobilitato e quindi creato soltanto per l'arrivo di Boricane e quindi un diversivo per attirare lì l'esercito mentre lui zitto zitto con un gruppetto di guerrieri ombra qualcosa a metà fra dei ninja e gli assassini di Prince of Persia sarebbe arrivato nella città imperiale e avrebbe ucciso l'imperatore con l'ausilio appunto di questi guerrieri ombra e della sua invincibile strega che lo ricordiamo ha l'incredibile potere di arrivare dovunque perché si può trasformare in un falco e quindi può volare tranquillamente dove le pare e assumere le sembianze di chiunque e questo è il punto quello che rende stupido l'intero film nel cartone Shang Yu non aveva questi mezzi a disposizione quindi una volta sfidato l'imperatore per dimostrargli la sua potenza non aveva altra scelta che affrontare le varie battaglie fino ad arrivare alla città imperiale ma Borikan quello che mi sono chiesta io è con queste straordinarie armi a sua disposizione quindi i guerrieri ombra e la strega perché non fa fin dall'inizio quello che fa alla fine perché sotto mentite spoglie con questo piccolo gruppetto non arriva alla città imperiale prende l'imperatore in ostaggio lo ammazza che ricordiamo era il suo il suo obiettivo principale ottiene la sua vendetta a quel punto con la città imperiale conquistata l'imperatore morto e l'esercito che non era mai stato mobilitato sarebbe stato uno scherzetto conquistare l'intera Cina e basta fine avevi vinto invece lui perde tutto quel tempo e tutti quegli uomini a organizzare la finta invasione della via della seta per poi fare quello che avrebbe potuto fare fin dall'inizio e tu dici ma che senso ha avuto tutto quello che abbiamo visto finora il senso come al solito era che volevano trasferire nel film una situazione che invece era del cartone quella cioè in cui Mulan si rende conto che c'è qualcosa che non va avvisa i suoi commilitoni che ormai non credono più in lei del pericolo e loro alla fine le danno retta ma qui ripeto il piano di Bory Khan sembra un'idiozia mentre invece nel cartone avevamo tutta quella bella tensione dovuta al fatto che la città stava festeggiando gli undi sembravano sconfitti nessuno nessuno sapeva che in realtà erano in città tranne Mulan che cerca di avvisare tutti ma nessuno le crede perché ormai è di nuovo una donna come le fanno dare i musci e tutto questo fila ragazzi fila come un orologio svizzero la sceneggiatura di Mulan cartone animato non ha sbavature è perfetta e invece qui poi c'è questa cretinata dell'imperatore cioè cretino Bory Khan cretino anche l'imperatore ragazzi perché la scena è questa la strega prende le sembianze di un consigliere vicino all'imperatore il consigliere il ciambellano non mi ricordo bene comunque prende le sembianze di questa persona vicino all'imperatore va da lui e proprio glielo dice gli dice guarda che Bory Khan non è stato sconfitto è qua in città e ti vuole vedere per un duello e l'imperatore dice si ci vengo così nel frattempo con uno stratagemma altrettanto idiota tutte le guardie imperiali vengono riunite in un cortile quindi nessuno difende più la città e niente l'imperatore come un cretino si fa catturare e finirebbe allo spiedo ovviamente se non arrivasse Mulan mentre invece nel cartone l'imperatore e i pochi soldati che gli stavano intorno vengono presi del tutto alla sprovvista e ci sta che la situazione precipiti e che sia Mulan ad arrivare all'ultimo minuto a salvare tutti quindi ragazzi in definitiva un film molto spettacolare che però ci ha perso chiaramente nel passaggio dal grande schermo al televisore di casa bello visivamente con delle grandi potenzialità con degli attori di tutto rispetto che però non si riesce a esprimere come dovrebbe e il tutto secondo me è dovuto proprio a questa ossessione per mantenere questi legami con il cartone animato quando a un certo punto teneri distaccato per la stessa volontà e sarebbe stato più sensato proseguire per quella strada ispirati alla leggenda raccontami una storia tutta nuova non tenere in piedi questi legami posticci col cartone animato che poi vai a finire nelle incoerenze narrative e nelle forzature e mi metti in piedi una storia che scricciola nelle sue fondamenta bene ragazzi questa è la mia opinione su Mulan come dicevo avrei tanto voluto parlare bene di questo film perché lo aspettavo veramente con ansia e mi aspettavo obiettivamente qualcosa di diverso e mi è dispiaciuto che non lo fosse rimane un film gradevole se ti vuoi passare un paio di orette così senza troppi pensieri con un film d'azione con battaglie duelli scenografie costumi un impianto visivo abbastanza affascinante diciamo che questo può essere un film adatto allo scopo però non è quella meraviglia epica che avrebbe potuto essere e soprattutto non avevamo bisogno di uno Star Wars in salsa cinese medievale se la sono pensata così evidentemente ritengono che questo vada di moda per ora però da un punto di vista artistico è stata un'occasione sprecata e devo dire che a livello emotivo a me personalmente il film non ha coinvolto per niente nel cartone originale mi scende sempre la lacrimuccia alla fine quando Mulan torna a casa suo padre le dice il più grande dono e onore è avere te come figlia nel film invece nulla sono rimasta veramente fredda e insensibile di fronte a questa scena e per me è stato quello il campanello d'allarme il segnale che il film non mi era piaciuto poi l'ho ovviamente analizzato e ho capito esattamente cos'è che mi aveva dato fastidio di questa pellicola bene ho parlato tanto ma avevo tante cose da dire spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo mi sono dimenticata all'inizio di dirvelo iscrivetevi al canale seguitemi sui miei social se volete leggere un libro gratuito vi ricordo che il primo volume della mia saga dell'Avron è disponibile gratuitamente in ebook sui vari store amazon e quant'altro se per caso avete bisogno di un editor per i vostri manoscritti vi lascio in descrizione il link al mio sito e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti